Hola raga e benvenuti in questo nuovo video, io sono Azema ed eccoci quanto ritornati nella terza puntata, se non sbaglio sì, di One Shot One Goal Challenge Guarda qua William, l'ubriaca di finte, vuoi cercare di andare solo, William viene fermato Adesso ho aggiunto molte altre penitenze, nel caso dovessimo perdere però spero almeno di fare un gol o due William, parla per Kanté, vai la lana, ancora Kanté, merda, sì Sanchez, vai Sanchez, non sbagliarla, la lana